Ragusa al 69esimo posto per ecosistema urbano, il rapporto di Lega Ambiente e Ambiente Italia che prende in esame 5 macroambiti, aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente, 20 parametri ecologici delle 106 città al capoluogo. Sono 18 le posizioni recuperate rispetto al rapporto 2023 settima città del Mezzogiorno Italiano. Migliora la situazione, spiega il sindaco Peppe Cassì per ciò che riguarda dispersione idrica, trasporto pubblico, piste, ciclaberi, alberi, PM10, mentre calano i valori di raccolta differenziata al 78%, 39esima in Italia in diminuzione dello 0,04%, tasso di motorizzazione ZTL e verde totale. È la fotografia di una città che cresce perché si dà da fare una comunità dove numerosi volontari, aderenti ed associazioni quali Plastic Free, Ragusa Attiva, Collettivo Ocra, Sahara, Keb, Nuova Acropoli con il patrocinio del comune e il supporto di attività private hanno trascorso la loro domenica ripulendo il parco Giovanni Paolo II. Grazie, conclude il primo cittadino, i risultati raggiunti e quelli che vogliamo raggiungere passano sempre da un lavoro di squadra.